Siamo al campionato di seconda categoria, girone O, questa è la diciottesima giornata, quinta di ritorno. Partiti, si inizia, siamo allo Stadio Italia di Sapri, di fronte Vibovilla New Stars, Centola. C'è il giocatore D'Angelo Vincenzo che va in aria a contrastare sul portiere, naturalmente trova in scarpitta un altro baluardo ed è la rete. Come vi dicevo, 1-0. Rizza, 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 Rizza il capitano, non è nuovo, ha questi colpi di testa sottoporta proprio sul palle da fermo, Rizza è dunque riuscito a sbloccare il risultato per il Centola al 37esimo minuto, dunque passa in vantaggio il Centola. Caputo che arpiona questo pallone, il tiro di Caputo, la respinta ed è Antonino Chintemi che realizza la rete dell'1-1. Bella la rete di prima, su questo pallone davvero non poteva fare nulla il portiere del Centola, Saturno. E lo stavamo dicendo, il Vibovilla che dal primo minuto aveva cominciato con insistenza nella matacampa avversaria. Pepoli palla in mezzo, pennellata come al solito, Linardi che esce, svetta su tutti, Linardi e la rete, la rete del Centola. Esposito, Esposito ha segnato il 2-1, Esposito. Decimo minuto del secondo tempo, era un'azione importantissima, ancora una volta su calcio da fermo. La ripartenza o il tentativo di ripartenza in contropiede, bravissimo Esposito ad involarsi, ennesimo tentativo di Esposito e palla in rete. Palla in rete, la rete di Esposito che arriva al 25esimo del secondo tempo. E' quello che avevo detto io nel primo tempo, quando si lascia spazio a giocatori come Esposito e Ranavolo, beh, fanno davvero male. E lo abbiamo visto bravissimo portarsi la palla avanti, eludere l'intervento del difensore e poi metterlo con il piatto destro, il pallone in rete. E l'albitro fischia la fine. Maresciallo Melucci, una bellissima partita, un cento l'ha determinato, ha chiuso tutti gli spazi e ha portato a casa questi tre punti importantissimi. Ha detto bene in due parole, ha riassunto tutte quelle che sono le peculiarità del centro. Il centro è questo, il centro è agonismo, il centro è impegno. Il risultato è figlio proprio di questo impegno. Effettivamente noi la partita non è che l'abbiamo preparata per l'occasione, è il nostro modo di giocare. Ognuno fa il suo sistema, come si dice, il palignano fa i mobili con il legno che ha. Noi ci possiamo permettere questo tipo di gioco, rimesso, impegno. E tante volte viene pure il risultato. Andiamo ad analizzare questo campionato. 35 punti Acquavelle e Pattano, 34 Pro Palinuro, 33 Centola e Vibovilla insieme alla compagine del 33 Cicerale e Centola, 32 Vibovilla. Io dico, l'ho pronosticato dalla prima giornata, io ho pronosticato Cicerale, Pattano e Acquavella. Sono sempre, con la sorpresa, Vibovilla. Sono sempre di questa pista. Io, noi, Centola lotterà. Certamente non la farà franca con nessuno, si impegnerà sempre. Però, noi non siamo strutturati per la vincita del campionato. Però, con tutte le nostre forze lotteremo. Io vedo tra queste squadre, se la domanda era per questa risposta, io, tra queste squadre, direi, stiamo attenti al Pattano. Il Pattano l'hanno fatto recuperare. Il Cicerale, secondo me, l'ultima cappola ha fatto sul campo di Scari, pareggiando il recupero. E quindi ha rimesso tutto in gioco, un'altra volta. Pattano e Acquavella sono squadre che hanno un organico superiore, numericamente, di qualità. Queste tre squadre, vedete. Poi, il Palinuri, se riesce a frenare, l'ira, diciamo così, un po' di nervosismo da parte di qualche giocatore che è determinante, lo può dire la sua. Francesco Cernicchiero, direttore sportivo del Vibovilla. Una partita brutta per la squadra del Vibovilla. Un centola più determinato, un Vibovilla molto nervoso. Sì, come ha detto lei, il nervosismo ci ha portato alla partita della partita. Anche se io dico, cioè ti dico, anche metto in dubbio il fatto del nervosismo. Il fatto è che abbiamo avuto le occasioni, non le abbiamo sapute sfruttare. Invece le statistiche mi portano, cioè abbiamo fatto 15 tiri, 15 occasioni, tra cui loro 4 occasioni. Loro non hanno saputo sfruttare e noi no, purtroppo. Sì, infatti nel primo tempo, senza dubbio, la squadra del Vibovilla doveva avere due o tre golle. Non sono stati sfruttati. Però determinazione scarsa sotto la porta nel momento di buttare il pallone in rete. Sì, purtroppo sì, perché dopo il 3-1 poi tutti gli schemi sono saltati, quindi non c'è stata proprio più partita. Il proseguo del campionato, parliamo anche del prossimo campionato. Abbiamo parlato con il mister Melucci, 35 punti Acquavella e Pattano, 34 il Propalinuro, 33 il Centola e Cicerale, 32 il Vibovilla. Dicevi anche tu, tre punti solo di differenza, però c'è un campionato ancora tutto da giocare. Sì, le grandi squadre si vedono in questi momenti. Io come mi ho detto, è sempre che non è forte chi non cade mai, ma è forte chi cade alla forza di Real Zars. Noi speriamo che ci riusciamo. Volevo dire solo una cosa riguardo del mister, che noi società è stato un esonero, non si è dimesso lui. E' stato esonerato per il semplice motivo, come avete detto voi in trasmissione, per questioni di lavoro. Quindi noi abbiamo apputato, siccome siamo in un punto clou del campionato, di avere un mister più presente agli allenamenti. Questo è tutto.